Ciao sono Nicola, sono il titolare di uno studio di progettazione che si occupa ormai da più di 30 anni di energia e di progettazioni termotecniche. Avevo la necessità di sistemare un po' tutti i collegamenti dei nostri computer, delle nostre stampanti, però avevo anche la necessità di mettermi in sicurezza per evitare dei cortocircuiti, quindi ho voluto scegliere un prodotto di qualità, alta qualità, un prodotto italiano che tra l'altro ho voluto anche personalizzare, per renderlo chiaramente esclusivo, sia come colori, come vedete grigio e nero sono i colori della nostra azienda, e con il nostro logo, un prodotto molto molto interessante che io ho adottato nel collegamento di tutti i nostri pc all'interno di tutta la nostra realtà. Ecco un prodotto come dicevo di qualità, che ci dà sicuramente sicurezza contro quello che sono i rischi degli sbalzi della rete, dei cortocircuiti e potenziali conseguenti incendi che a noi è piaciuto molto, tant'è che abbiamo valutato anche l'idea di costruire questo prodotto come gadget nostro aziendale da diffondere, da regalare anche ai nostri migliori clienti, proprio perché noi il nostro messaggio è quello di promuovere la qualità, la qualità nei prodotti e sicuramente nella progettazione che noi sviluppiamo. Quindi vi consiglio questo prodotto. Ciao a tutti!